L'ansia, lo stress, le troppe tensioni, i troppi pensieri minano la tua serenità? Ti capita a volte di dormire poco la notte perché magari sei preso o sei presa da troppi pensieri, da quello che accadrà il giorno dopo o accadrà anche molti giorni dopo? Quando lavori o quando fai le attività di tutti i giorni non riesci a rimanere concentrato o concentrata sul tuo presente perché la tua mente vaga? Arriva la sera e sei molto stanco o sei molto stanca, anche se effettivamente la giornata non è stata così pesante, oppure proprio perché l'hai riempita di troppi impegni? Se hai risposto sì ad almeno una di queste mie domande, questo è il corso che fa per te. Chiama immediatamente il numero 0761 44 32 78 oppure il numero 0761 95 8759 ed iscriviti adesso al corso di tecniche di rilassamento dell'Università Popolare della Tuscia. Il corso di tecniche di rilassamento dell'Università Popolare della Tuscia è diverso da tutti i corsi di tecniche di rilassamento che hai potuto frequentare o dei quali hai sentito parlare. Io innanzitutto sarò il tuo docente, sono Marco Antuzio, 34 anni, sono trainer di programmazione neurolinguistica, comunicazione ipnotica, autostima e sviluppo personale e da molti anni mi occupo di tutte le tematiche che sono legate al benessere mentale. La prima caratteristica del nostro corso sarà innanzitutto l'incredibile chiarezza, perché spesso alcuni corsi ti danno tante informazioni ma non ti aiutano a apprendere veramente quello che stai studiando. E quindi a volte ti senti confuso o confusa perché ti dicono vai a destra invece a sinistra, oppure vai di qua invece di là, oppure vai su invece e giù. Invece questo corso ti darà la strada giusta, ti dirà esattamente come fare per poter eliminare tutte le tensioni mentali e fisiche che tu hai. Come è strutturato questo corso? Questo corso innanzitutto non è un corso fatto solo di nozioni, è un vero e proprio training. All'interno delle lezioni faremo degli esercizi insieme, perché imparare senza sperimentare non serve a nulla. E all'interno di questo corso sperimenterai tutte le tecniche che impareremo insieme. Impareremo il mindfulness con il quale tu potrai imparare a vivere nel presente, a staccare la tua mente da pensieri inutili e prendere coscienza di quello che sei e che vuoi veramente. potrai prendere coscienza di quei bisogni tuoi interiori che hai, che senti forte ma che spesso ti neghi perché magari riesci a non accettare, non riesci ad accettare, oppure che riesci ad ammettere a te stesso o a te stessa solo quando sei solo, quando sei solo e poi dopo quasi di censuri. Prenderai coscienza di questi desideri più profondi, perché ognuno di noi ha varie identità, ha delle identità sociali, quindi il ruolo che svolge in società, il proprio mestiere, il ruolo di mamma, di papà, di compagno, di compagna. Poi ci sono alcuni bisogni interiori più profondi che spesso non condividiamo e non riusciamo a pagare, eppure ci sono e non ha senso ignorarlo. E grazie al corso di mindfulness e tecniche di rilassamento tu prenderai coscienza con la parte più profonda di te, perché arriva un momento nella vita nel quale ti guardi dentro e vedi che non puoi più rimandare, ma è giunto il momento di poter finalmente appagare quei tuoi bisogni per essere completamente te stesso o te stessa e far spiccare il volo alla tua vita. Grazie al corso di tecniche di rilassamento apprenderai anche molte altre tecniche, quali l'autipronosi, quali le tecniche di respirazione e tutte quelle tecniche che ti permetteranno in maniera veramente semplice di poterti rilassare profondamente tutti i giorni e anche in pochi istanti. Non avrai bisogno di dover trovare un luogo appartato e stare lì una o due ore per fare questi esercizi di rilassamento, ma ti basteranno pochi istanti e li potrai fare in qualsiasi luogo, sul posto di lavoro. E poi quando saranno diventati parte di te, tu vivrai una situazione di benessere e di rilassamento anche senza applicare queste tecniche, perché sarai cambiato, sarai cambiata dentro. Ormai sarai una persona rilassata, sicura e tranquilla con te stesso e con te stessa in qualsiasi situazione della vita. Quindi, se hai risposto sì a una delle mie domande iniziali o se desideri apprendere come rilassarti al meglio in modo semplice o se desideri divenire o diventare finalmente te stesso, chiama adesso 0761 44 32 78 o il numero 0761 95 8759 e iscriviti senza impegno al corso di tecniche di rilassamento dell'Università della Tuscia. Potrai fare un primo incontro con me e con i tuoi compagni di corso e solamente dopo decidere se vuoi iscriverti, se desideri iscriverti, oppure semplicemente farmi ulteriori domande e decidere anche di non iscriverti se penserai che quello corso non è fatto apposta per te. Quindi, chiama adesso il numero 0761 44 32 78 o il numero 0761 95 8759 e iscriviti immediatamente in questo momento, smetti di rimandare e finalmente fai qualcosa per te, per la tua vita. Concediti qualche cosa di importante per te, perché te lo puoi permettere per una volta. Oppure scrivi alla mail info-unipoptus.it per poter dare comunque le tue informazioni e poterti iscrivere a questo meraviglioso e straordinario corso. Ti aspetto. Ciao da Marco Antuzzi.